Ciao amici, perdonerete l'inquadratura scansonata, ma d'altro canto è sabato, oggi rimettiamo le camicie nell'armadio e sfoggiamo le t-shirt all'insegno del barlume di normalità che siamo tornati a vivere. Detto ciò il mercato tiene sempre banco, sebbene poi il quadro sia ancora molto astratto, un po' meno degli ultimi giorni perché arrivano notizie concrete, a inizio settimana avevo perlustrato un pochettino quello che sarebbe potuto diventare il tema portante di questi giorni legati non solo al mercato juventino, ovvero Mauro Riccardi, perché Inter e Paris Saint Germain nelle ultime ore hanno definito un accordo sulla base di 50 milioni più eventuali 8 di bonus, quindi circa il 17% di sconto fatto dall'Inter al Paris Saint Germain in relazione poi dell'accordo stipulato nella passata stagione quando si pensava che a titolo definitivo Riccardi potesse diventare un giocatore del Paris Saint Germain per circa complessivamente 70 milioni, così non sarà, c'è appunto questo forte sconto poi dettato anche da questo maledetto Covid-19 che inevitabilmente impatterà nelle strategie di tutte le società, nessuna esclusa. Quindi Riccardi entro la fine di maggio, quindi in queste ore, diventerà, diventa in tutti gli effetti un giocatore del Paris Saint Germain, ma c'è di più perché la notizia in questo mio video il titolo è legata alla clausola che Inter e Paris Saint Germain hanno definito, una clausola definibile tranquillamente anti-Juve, perché in soldoni se Riccardi dovesse trasferirsi immediatamente in un'altra società italiana dal Paris Saint Germain, ebbè automaticamente il PSG dovrebbe versare 15 milioni nelle casse nero-azzurre e l'accordo diventerebbe 50 milioni di parte fissa, eventuali 8 di bonus e 15 subito per questo passaggio a un'altra squadra italiana. Io personalmente faccio fatica a pensare che il Paris Saint Germain decida nella stessa sessione di mercato di perdere un prossimo free agent, Edinson Cavani è un giocatore per il quale ha speso 50 milioni più eventuali 8 di bonus che i Cardi, perché significherebbe dover rimpiazzare due attaccanti di livello assoluto e non è semplice, considerando solitamente che chi ha i grandi giocatori se li tiene stretti e soprattutto se li vende e se li fa pagare a peso d'oro. Però quindi adesso quando si ragiona attorno ai Cardi non si ragiona più attorno a un giocatore di proprietà dell'Inter, bensì a un giocatore del Paris Saint Germain, lo saranno tutti gli effetti, il comunicato è atteso a breve. Vedremo quali saranno le mosse della Juventus che sui Cardi da anni monitora attentamente la situazione, però diciamo che personalmente la vedo come una pista non irreale, però estremamente complicata, considerando questa clausola definita appunto tra Paris Saint Germain e Inter. Vedremo quindi ragazzi cosa accadrà nel futuro, sia sul fronte ai Cardi, sia sul fronte alle strategie juventine offensie che inevitabilmente ragazzi, io ve lo dico ormai in ogni video, passano dai 18 milioni, quindi dal peso a bilancio dal primo luglio di Gonzalo Higuain, perché Higuain è davvero molto molto impattante a livello di costi per la Juventus che se non ha la certezza di trovare una collocazione al Pipita difficilmente può andare su altri obiettivi, anche se io resto veramente convinto che la Juve nel corso del prossimo mercato farà di tutto per portare un nuovo giocatore, un nuovo numero 9 alla continassa, però molto se non tutto passa da un'eventuale cessione del Pipita. Ricapitolando, i Cardi di Paris Saint Germain, tutto fatto, 50 milioni all'Inter più 8 di bonus e questa clausola, questa clausola anti Italia barra anti Juve da 15 milioni che vedremo come andrà a finire. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di quest'operazione e soprattutto, se siete tifosi a Juventus, iscrivetevi al mio canale YouTube e mettete like ai miei video. Un abbraccio!